Bene, iniziamo per primi. Mano accettabile, perché abbiamo due terre di urs, due prismi. Comunque abbiamo abbastanza terre per non morire nei primi turni. Proibito a questo punto la partita di solito non è rilevante. La nostra partenza... non sapendo cosa gioca l'avversario, probabilmente la partenza migliore non è fare turno 1 plant map, ma turno 1 tranquil cove, così da avere la possibilità di sfruttare il proibit in maniera da rallentare l'avversario, perché non sapendo cosa gioca l'avversario a questo punto non sappiamo quale sia la partenza migliore. Però essendo appunto on the play, avere la possibilità di sfruttare questo proibit per neutralizzargli un pezzo problematico può essere interessante. Vabbè, in ogni caso peschiamo la seconda terra di Urza, quindi siamo sicuri di poter fare Urza Tron di quarto eventualmente. Noi ci teniamo open adesso per proibit. L'avversario non sappiamo cosa gioca, però se ha ciclato un Ash Bar, insomma, sta giocando a Boros Monarch. Se non avesse ciclato niente sarebbe stato forse anche Affinity. Vediamo cosa gioca. Se gioca un Seeker glielo neutralizziamo con piacere, perché è una delle partenze che ci può essere più problematiche per noi. Nel prossimo turno facciamo minire la mappa, spacchiamo mappa, prendiamo torre e possiamo permetterci di giocare un paio di Prismi. E ovviamente abbiamo pescato il Flicker in modo da valorizzare i Prismi. Fantastico! Questo mazzo a volte pesca in maniera imbarazzante. Vediamo cosa ci propone il nostro avversario con tre mana, forse è un Prismi che ha il secondo Seeker. Vabbè, prendiamo la torre. Impulse penso che sia una delle pescate migliori che potessimo fare al momento, dato che comunque ci permette di andare a scavare per cercare i pezzi più importanti. L'Ignitario può essere interessante, rilevante come no, al momento in realtà peschiamo un'altra con Quilcove. Ok, a questo punto della partita praticamente le carte che vogliamo pescare in realtà sono abbastanza limitate. Cioè, sono Muro, dato che comunque abbiamo già Flicker, e possono anche essere Moodrifter eventualmente. Vediamo cosa ci propone l'avversario. Prophetic Prism, va bene. Quindi vuol dire che non ci farà Monarch a questo turno, è l'unico dato positivo, direi. Avendo soltanto due counter che neutralizzano Monarch, può sembrare un po' un problema utilizzare un Proibit nei primi turni, però comunque giocando 5 Blink Effect riusciamo a generare un value molto importante grazie ai muri. quindi possiamo permetterci di usare uno dei counters, una delle prime creature che gioca l'avversario, soprattutto se è un Seeker. Considerato che comunque giochiamo dignitario, non tomiamo troppo la risa del nostro avversario. Lui si tiene open, non capisco cosa possa avere, forse 4 carte in mano, vabbè, usiamo Flicker. Vediamo se ci tira un Bolt o qualcosa del genere, no? Potrebbe anche avere dei journey turn over. Peschiamo una cave e peschiamo una pace che non sarà la carta che farà la differenza a questo punto. Muro penso che fosse tipo la pescata con la lama a questo punto. Possiamo decidere di giocare tranquillo il Cove, semplicemente perché ci bastano 3 mana per Ghostly Flicker. Forse ci conviene comunque giocare una Cave of Plantation, giusto per avere la possibilità eventualmente di riprenderci Proibit, facendo Flicker su Muro e Urza's Tower, nel caso l'avversario dovesse decidere di proporsi una Palaz Sentine. Passiamo ovviamente, fine turno se l'avversario non fa niente possiamo tirare un Impulse. Se ha Galvanic Blast c'è Amazza Muro, pazienza. Corsky Fisher che riprende Prisma, ci va più che bene a questo punto. Le scelte su cosa giocare a fine turno sono Flicker su Muro e Prisma oppure Impulse. Probabilmente tirerò lo stesso Impulse perché dipende sempre da cosa gioca, come sta giocando lui, se... Ah, Bone Splitter. Scelta interessante, quindi non si... Allora, o lui sta giocando Boros Metalcraft, però è strano che giochi Seeker qui dentro, o sta giocando una versione di Boros Monarch con le Bone Splitter, che sarebbe un po' particolare. Lui mi gioca Prisma, d'accordo. Allora, a questo punto lui si è tappato out, però gioca tante pianure, quindi è probabile che sia Boros Metalcraft. Vediamo. Possiamo decidere di parare con Muro, fare Flicker su Muro e Prisma, così praticamente gli annulliamo un turno ciclando. Quindi praticamente abbiamo fatto un vantaggio a tempo, non abbiamo sfruttato questo Impulse, però almeno abbiamo fatto un più 1 in mano. Abbiamo pescato un altro Impulse, può essere interessante, ma non al momento. Beh, comunque il 3x di Impulse, per scatto così non fa schifo. E, boh, le scelte adesso sono fare Trampi di Kogo, oppure Cave. In realtà c'è abbastanza indifferente, possiamo comunque giocare prima un Impulse, giusto per avere più informazioni. Vediamo cosa ci rivela. Questa può essere interessante, perché il secondo muro probabilmente è la scelta più controllosa a questo punto. Muldrifter è quella che ci può fare fare più value, però probabilmente la scelta migliore è che è sempre Muro, dato che comunque le terre ce le abbiamo, il vantaggio carte ce l'abbiamo, che è dato da Flicker. E, sì, vediamo un po' cosa decidere di fare qua. Quanto mana possiamo avere? Quattro, sei, sette. Quattro mana. Allora, il secondo muro non lo giochiamo adesso, quindi giochiamo... Niente, giochiamo Trampi di Kogo. Così abbiamo un mana in più il prossimo turno, eventualmente. Possiamo passare. Non ci sono tanti danni in campo. Il prossimo turno giocheremo il secondo muro. Lui equipaggia. Mi va bene che equipaggici. Comunque metallurgia, quindi... Allora, decidere di non picchiare qua col Seeker è sempre sbagliato, perché comunque io non avrei mai parato con lui che avrebbe potuto farmi doppio botto. Eh, Boros Metalcraft, perfetto. Molto più gestibile, probabilmente, rispetto a Boros Monarch, giocando questa versione. Vabbè, adesso probabilmente si riprende in mano Prophetic Priest. Terra comunque l'ha già fatta. No, doveva farla. Quindi cosa fai di giochi Prisma adesso? Non ha tanto senso giocare Prisma qua in secondo luogo. Forse aveva un botto in mano, no? Non capisco. Potrebbe avere una Galvanica in mano. Sarebbe stata l'unica ragione per non fare Prisma prima della combat. O forse non ha picchiato col Seeker pensando al fatto che gli avrei parato. Che anche questa è una possibilità, però. No, qua prendiamo il Prohibit. Qua abbiamo 4, sì. Facciamo prima Flicker su un muro il Prisma. Il Prisma si stappa. Poi abbiamo ancora due mani e facciamo Impulse. Non so se ha senso fare Temerit qua, però potrebbe avere senso per riprendersi Prohibit. In realtà preferisco tirare Impulse così mi tengo il Prohibit per neutralizzare un'eventuale rimozione su una delle mie creature chiave. In questa mano probabilmente l'unica roba che voglio è di roba Horror per avere una chiusura. Tanto le terre ce le ho. Andiamo di roba Horror. Abbiamo pescato pure una terra di Urza. Giochiamo dignitario. Non ho necessità di fare muro adesso. Gioco terra di Urza giusto per avere più mana. L'avversario cosa sta facendo? Sta concedendo. Il mio avversario sa che ha Flicker in mano. Ha giocato dignitario probabilmente ha concesso. Bene. Allora, stiamo giocando contro un mazzo che punta unicamente a chiudere di race. È vero che giocando Metalurgia e giocando appunto Boros Metalcraft ci può chiudere di botti quindi di Bourne Spells ed è un motivo per cui potremmo mettere dentro Wilder the Storm però in generale non stiamo giocando contro un mazzo che punta a rindarci. Quindi presumo che la seri data migliore sia puntare su dignitario e lasciare un po' da parte carte come Reign of Revelation o Prohibit. Metterò dentro Hansengrudge perché probabilmente lui mi metterà Relic contro e probabilmente mi conviene togliere i Prohibit dato che comunque è vero che mi può mettere dentro delle Pyroblast però posso contare su su molteplici fog effect per gestire la partita e comunque giocando due Pulse of Murasa una volta che risolvo Relic of Progenitus posso diciamo tra virgolette neutralizzare le sue Pyroblast riprendendomi in mano in Wild Drift riprendendomi in mano in Muri a questo punto praticamente potrei decidere di mettere dentro di V-Spels semplicemente o delle Hydroblast semplicemente per il fatto che lui mi giocherà delle Bourne Spells e delle Pyroblast quindi possiamo dire che la sedata migliore potrebbe essere mettere dentro delle copie di Hydroblast volendo posso mettere dentro Weather the Storm non sono molto convinto se sia il caso di mettere dentro la seconda copia di Moment's Peace meglio la Weather the Storm appunto perché lui mi gioca un sacco di di Bourne Spells e confrontando rispetto alle altre versioni di Boros probabilmente la scelta di mettere dentro due Hydroblast non è sbagliata dato che lui mi mette dentro anche Chain Lightning e niente non credo che ci siano altre scelte da fare forse potrei togliere un Dean Rova per mettere dentro un'altra Hydroblast non sarebbe una scelta sbagliata oppure un'altra pace lui potrebbe mettermi dentro Freling Pin quello può essere vero inoltre no ma forse mi conviene tenere due Dean Rova lui potrebbe avere in Giornitano o era comunque un sacco di volanti teniamo così con solamente due Counter ovvero due Hydroblast non dovrebbe avere dei le Bojuka Vogue per cui sia necessario neutralizzare le Core di solito Unsengrudge è più forte per appunto per la presenza di Relic avrei potuto tenere dentro i Prohibit al posto delle Hydroblast appunto perché ah sì forse era meglio tenere dentro i Prohibit più che altro perché a Seeker mi permette di neutralizzare Seeker però i primi turni io di solito preferisco essere più proattivo e cercare di preferisco cercare di montare il Fog Lock vedremo è un mazzo abbastanza interessante perché non ci spesso ci può proporre delle delle scelte di cioè ci può proporre delle carte della side lui che non ci aspettavamo perché potrebbe avere Johnny Turnover potrebbe avere anche Palace Sentinel per cercare di rubare la partita col Monarca ed è una cosa che potrebbe essere problematica dato che comunque essendo un mazzo aggressivo se riesci a risolvere una Palace Sentinel può impostare un gameplay molto aggressivo ed è il motivo per cui ho finito tenuto dentro tutte le 5 le foghe effect e l'ho messo dentro Weather vedremo come va insomma è un po' da giocare contro Aura Xproof per il fatto che lui può proporre praticamente un gameplay aggro con delle interazioni però sempre come Aura Xproof non sappiamo come cosa potrebbe aver messo dentro oltre a Pyroblast ovviamente allora qua abbiamo un Mulligan se ci fosse stata una seconda terra ad esempio al posto di un Manonical avremmo potuto tenerla perché c'è la Impulse c'è la Prisma e c'è la Mappa invece così la Mulligliamo questo è questo è un bel problema allora se la teni non è sbagliatissimo tenere una mano del genere perché abbiamo Prisma abbiamo Mappa abbiamo una Terra però se non peschiamo la seconda Terra che abbiamo due pescate per cercarla qua rischia di morire ci in mano questa mano però abbiamo delle carte chiave che possono essere molto importanti e se la Mulligo dovrei andare a 5 quindi proverò a tenerla non è una delle migliori mani e la tengo a malincuore vediamo se la Versare parto Terra Relico o Terra Mostro parto Terra Mostro abbiamo appena fatto una pescata morta va bene abbiamo ancora un paio di turni prima di pescare la seconda Terra sempre che la Versare non ci abbia messo Scena Niggans o carte del genere potremmo avere si Omunculus Fornace Moonsplitter e abbiamo comunque già un 3-3 che ci picca di seconda e un 2-2 più una fonte di erano fisso data da Moonsplitter quindi speriamo di pescare Terra adesso vorrei fare Prisma adesso ok penso che faremo Miniera bello Tron la cosa triste è che se avessi messo sotto Ansemgrudge o Moments Fist al posto di Ghostly Flicker avrei già avuto la la chiusura praticamente se lui non mi fa un'altra Terra rossa io il prossimo turno faccio gioco Prisma spacco Terra Rossa così ricavo via anche la possibilità di farmi Pyroblast e ricavo via Metalurgia Miniera peschiamo 1 comunque ci pensiamo adesso perché l'alternativa potrebbe essere appunto fare dignitario se spacco Fornace lui comunque può pescare la Terra un'altra Terra quindi però lui è saltato un Land Drop e il prossimo turno sono qualcosa come 4 più altri 2 6 cerchiamo di puntare sul fatto che che l'avversario abbia sfortuna è stato un peccato mettere sotto il clicker se avessimo saputo che avremmo pescato muro non avremmo messo sotto clicker ma un po' un po' un po' adesso è abbastanza probabile che l'avversario peschi ah beh ha pescato traven quindi torna ad avere metallurgia sono 3 6 10 ah litor perfetto ha pescato pure terra quindi spaccare fornacce è stato inutile e ci chiede di quarto beh comunque la Terra artefatta non l'ha pescata però ha pescato la Terra allora togliamo le Hydroglass rimettiamo le Prohibit perché comunque giocando lui molte creature a costi bassi giocando i Seeker cosa strana in questo mazzo ci conviene giocare i Prohibit giusto per avere magari la possibilità di neutralizzare una creatura a turno 2 non è sbagliatissima come cosa poco probabile però ci si può provare insomma mal che vada utilizzeremo questo Prohibit per neutralizzare una Relic vedremo insomma iniziamo per primi boh fin dato che si aprano tutte le mani così forti questa la teniamo per forza faremo turno 1 mappa probabilmente io turno 3 voglio tirare compulsive posso decidere di fare Tranquil Cove se faccio Tranquil Cove probabilmente turno 3 voglio fare allora faccio Zatron di quarto turno 3 questo la sua probabilità di pescare Prisma che Prohibit quindi probabilmente mi conviene fare mappa eventualmente il prossimo gioco Tranquil Cove giusto per avere manacologato e poter fare compulsive research il terzo sì una scelta accettabile vediamo sì turno 4 ci piace io farò comunque tranquilli il Cove qui così al prossimo turno ho la scelta se fare compulsive research o spaccare expedition map anche se a questo punto probabilmente farò lo stesso spacco mappa per torre lui ha tenuto monoterra spacco mappa per torre così posso sfruttare meglio al mano il prossimo eventualità no non ha tenuto monoterra però ha deciso di fare comunque quell'intopo di turno 2 Prohibit ci piace non è forse la pescata migliore che potessimo fare però interessante questo punto però per come si sta sviluppando la partita in realtà posso benissimo decidere di fare turno 2 mi tengo per Prohibit neutralizzo un pezzo turno 4 posso fare teachings non ho necessità di fare Urzatroni il prossimo e avere doppio mana colorato alla lunga può essere più importante comunque lui non sta mettendo pressione quindi non ha necessità di fare subito Urzatroni ed è quella la cosa più più altro che determina questa mia giocata l'anda 15 vediamo cosa gioca potrei decidere di neutralizzare Traven perché non ha metallurgia però non sono certo che lui non abbia altre che lui effettivamente non abbia come si dice che non abbia un altro artefatto e comunque posso utilizzare Proibit per un Prisma eventualmente dato che lui non mi sta ancora proponendo mana rosso prendiamo Tor dirò può essere una pescata molto irrilevante a questo punto possiamo aspettare adesso ci teniamo open per teachings andiamo a prendere flicker forse un altro counter forse impulse si andiamo beh comunque abbiamo una compulsive con cui possiamo scartare lì in rova però sono a 9 però lui non ha mano rosso fa che indizio passa a questo punto le alternative sono fare teachings per nebbia però abbiamo già un turno di dignitario allora probabilmente forse ci conviene aspettare per teachings perché non abbiamo il mana fixing forse ci conviene andare a prendere impulse ma in realtà possiamo fare semplicemente teachings per teachings così eventualmente abbiamo un teachings al cimitario da flashback e non abbiamo sfruttato il mana a questo punto non è una giocata straordinaria però almeno ci dà più flessibilità per quello beh va bene adesso facciamo semplicemente compulsive research finitario vediamo cosa scartare abbiamo pescato la pace abbiamo pescato un'altra terra con il terra blu vogliamo un altro blu interessante beh comunque la pace la teniamo unseen garage non lo possiamo giocare scartiamo dean rova e unseen garage che sono inutili al momento giochiamo rinoceronte prossimo turn abbiamo tre mana open cioè tre mana colorati blu che ci permettono di giocare teachings pace e counter nell'eventualità possiamo eventualmente tirare il pulse su dean rova nel caso ci fosse la necessità l'avversario spacca indizio qua praticamente stiamo giocando una partita molto agevole per noi perché lui non ha messo tanta pressione ed ha inchiodato a terra abbiamo pescato nel frattempo il secondo pro i vedi che ci permette di gestire molto bene la partita a questo punto potremmo addirittura spaccare l'ansend den con l'ansend glass che abbiamo al cimitero penso che però me lo terrò nell'eventualità dovesse fare terra rossa perché appunto voglio neutralizzare la possibilità che mi faccia pyroblast comunque posso tirare pulso chumurasa nel frattempo per riprendermi di inrova solo per guadagnare vite quindi siamo messi molto bene pareremo il 2-2 passano 4 vado a 5 cor sky fisher che probabilmente riprende la terra o cosa in realtà cor sky fisher non ci dà problemi se risolva adesso perché abbiamo pace quindi può risolvere riprende terra si vede 7 carte in mano quindi travel non è più di tanto un problema fino in tanto che non ho possibilità di tirare botti dunque prima di tutto preferisco fare teachings per impulse se prendiamo remote isol posso fare forse devo prendere cave drifter non è troppo rilevante al momento pace ce l'abbiamo prendiamo cava perché semplicemente è una terra colorata è una terra che ci dà nero tiriamo sortiamo il mana facciamo nuovo pulse potremmo addirittura tirare di nuova solo sul prisma abbiamo pescato un'altra tabla che può essere remote isol facciamo cave passiamo tiriamo pace flashback di teachings adesso dobbiamo pescare solamente muro e abbiamo vinto perché abbiamo doppio teachings al cimitero anche se prima ovviamente ci andrà a prendere impulse o prendiamo impulse o prendiamo ephemerate però a questo punto dobbiamo soltanto pescare muro quindi dobbiamo solo è curioso che non stia pescando la terza terra tiriamo flashback di teachings per impulse quindi praticamente è la prima carta che dobbiamo prendere adesso con impulse sarà sempre solo muro a meno che non ci sia qualcos'altro per pescare probabilmente vediamo prenderemo prisma si adesso ci manca solamente una carta per chiudere non è drifter gioco prisma pesco uno mappa potrei giocare drifter solo perché pesca e da un senso giocarlo per pieno perché tanto dobbiamo tirare solo pace possiamo fare divination praticamente giocheremo torre sì comunque adesso abbiamo abbastanza mana per fare flashback di pace e tenerci open di proibit che è quello che voglio fare adesso dobbiamo vedere solo muro però abbiamo pescato ephemerate che ci fa guadagnare un turno eventualmente possiamo tirare ephemerate su drifter però penso che sia problematico perché poi non abbiamo cose no probabilmente abbiamo più guadagno da tirare ephemerate su muro su drifter che a tenereci open per proibit tanto comunque abbiamo anse in grage al cimitario eventualmente abbiamo pescato un altro dignitario un top deck onesto dignitario passiamo tireremo eventualmente moment's peace vediamo quanti danni ci vuol proporre perché comunque possiamo parare un ben e un homunculus ci passerebbero due quattro sei danni quindi comunque anche se non tiriamo flashback di teachings di pace sopravviviamo lo stesso la partita è abbastanza difficile per il nostro avversario con tutto quel vantaggio abbiamo pescato metamazzo ed è curioso che abbiamo pescato ancora una una cosa un muro bene munco lo risolve lui ha 7 carte in mano quindi o ha solo carte rosse o ha solo creature lui sta vedendo molto male comunque è una cosa che ci sta andando molto a favore a fine turno spacchiamo mappa per emotizer se non ci propone niente di strano mappa per emotizer sì vabbè comunque la partita è stra facile lui non sta vedendo niente blanchiamo drifter abbiamo doppio dignitario una pace al cesso abbiamo vinto muro no dignitario muro riprendo ephemerate partita finita scarto due terre a caso e lui non può più uscirne via questa via la plant giusto perché la cave può trasformarsi in un paio di segnalini più 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 due ma per scarto finalmente la terza terra salta la combat non ha interazione quindi è stra finita per lui addirittura adesso posso permettermi di fare ephemerate su un muro riprendo pulse riprendo drifter così guadagno vite e metto un altro attaccante tanto comunque doppio doppio provito in mano lui non può uscirne abbiamo pescato anche il secondo muro nonché ci cambi la partita al momento è la saga dei rinoceronti quando la partita va così per la lunga non c'è praticamente modo per loro di uscirne ha già giocato un dignitario posso semplicemente giocare ephemerate sono di dignitario in modo da non andare in discord che non ho tanto piacere ad andare in discord così avrei potuto tappare la tower giusto per giocare anche il prisma però adesso mi bastano solo due male non ho niente di interessante al cesso però potrei tirare flashback di teaching solo per avere un altro ephemerate un ephemerate oppure un flicker però comunque è un altro movimento quindi rilevanto beh a questo punto è arrivata l'ora di chiudere quanta mano giochiamo terra limitario dirrova cominciamo a rimbalzargli le terre in realtà potevo rimbalzare le creature volanti ho sbagliato qui io però vedi riscarata terra indifferente per noi poi giochiamo prisma passiamo lui la combat l'assalta fine turno tiriamo doppio ephemerate su dinrova se non fa nulla di rosso non fa nulla di rosso dinrova via core in rove via clean talk partita strafinita ma probabilmente lui e l'avversario che non è mai entrato in partita non ho mai visto il rosso non ho neanche mai visto un prisma è quello il problema forse perché quel mazzo gioca pochi prisma con astrolabio ovviamente era molto più forte perché aveva una curva di mana molto migliore giochiamo prisma giochiamo terra dinrova pierlin talk infatti aveva la mano piena di carte rosse l'initario su moll drifter sull'altro moll drifter richiamo passiamo se lui non fa niente a fine turno faccio pulso fumorasa su una delle cave op tentation giusto per aumentare la pressione sul bordo anche se in realtà 4 8 sono 8 danni a turno quindi si è finita molto easy grazie